Cambiamo argomento, parliamo di azzardo perché allarme nella provincia di Barletta Andrea Trani dove lo scorso anno in macchinette slot machine sono stati spesi 490 milioni di euro, 122 dei quali nella sola città di Andria. I dati sono stati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli di Stato e sono dati che preoccupano coloro che ogni giorno sono impegnati nella lotta alla ludopatia. Cifre da capogiro per il gioco d'azzardo ad Andria, oltre 122 milioni di euro sono stati bruciati nel 2019. I dati arrivano dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'ente garante della legalità e sicurezza in materia di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Come è noto, sale slot, sale giochi e sale scommessi hanno riaparto il 15 giugno scorso dopo la chiusura forzata per l'emergenza sanitaria. Secondo i dati relativi al giocato fisico, cioè riferito alle somme materialmente introdotte negli apparecchi, ad Andria lo scorso anno sono stati bruciati per l'esattezza 122 milioni 489 mila euro. Affare da padrone, le videolotteri. Seguono le AWP, cioè le slot machine, quindi le scommesse sportive a quota fissa, lotterie santagne, gratte e vince simili, lotto e via via tutti gli altri giochi. I numeri si riferiscono alle sole giocate fisiche e non a quelle online, che sono raccolte separatamente per le quali l'agenzia non indica la provenienza geografica, ma fornisce solo un dato aggregato. A fronte di queste puntate, l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli segnala una vincita in città di 96 milioni 400 mila euro, per una spesa totale quindi che ammonta ad oltre 26 milioni di euro. Per il dato nazionale, nel 2019 la raccolta, sempre secondo l'agenzia, è stata complessivamente pari a 110 miliardi e le vincite si sono attestate a 91 miliardi di euro. A fronte della proliferazione dell'offerta e del consumo di gioco d'azzardo, commenta Don Geremi Acri, direttore di Casa Accoglienza Santa Maria Goretti, la politica si sta mostrando poco attenta ad un'inversione di tendenza. E ciò che resta, come indicato dal Papa, è la costante vigilanza su se stessi e sul contesto in cui si vive per denunciare ciò che minaccia il bene comune e operare secondo un principio di corresponsabilità. A tal proposito, il nostro sportello di contrasto al gioco d'azzardo patologico continua la sua costante opera a favore dell'intera comunità. È importante prendere consapevolezza del problema per collaborare effettivamente alla sua risoluzione, e commenta Liliana D'Avanzo, psicologa dello sportello Vinco Io e consulente dello sportello di Casa Accoglienza. Attraverso la presa in carico, la cura e la riabilitazione della persona con problemi di dipendenza, vogliamo sul nostro territorio contenere i numeri legati al gioco d'azzardo patologico che purtroppo continua a destare preoccupazione. La via per la guarigione è lunga, ma non impossibile.